E ci troviamo all'Elisir Spa del Domina Coral Bay, perché qua si gode di cuore, di fisico e di testa. Tutto questo all'Elisir Spa, il top del benessere, il top dell'essere coccolati. Amiche e amici di Truman TV, vi abbiamo raccontato che questo è il luogo ideale, tanto amato dalle star che arrivano qui al Domina Coral Bay da ogni parte del mondo, star internazionali e noi oggi l'abbiamo beccato, una star di casa nostra, Sara Tommasi, buongiorno. Ciao Ghibri, ciao, trovate tu. Buongiorno, grazie, grazie per averci. Scusa se ti disturbiamo, un corpo bellissimo come sempre, ma come ti proteggi da questi raggi del sole? Beh, con questo olio qui abbronzante, con prodotti naturali, poi un bel doposole, mi metto sotto il lettino, poi faccio tanti bagni, bevo tanta acqua e mi faccio coccolare qui alla spa con tanti massaggi e trattamenti di bellezza. Ma che bello! Senti Sara, ma perché Domina Coral Bay? Cosa ci fai qua tu? Ma sono qui con mio marito perché abbiamo acquistato un appartamento e ci stiamo rilassando e godendo il mare e poi mio marito lavora anche con dei locali qui a Sharma, con il Lullapalusa in particolare, dove organizziamo delle feste italiane e una che si chiama Abbronzatissima. Dove tu sarai il protagonista. Sì, esatto, e quindi poi stiamo realizzando dei progetti work in progress, ma non ne parlo per scaramare. No, no, io so, ma non se ne può parlare, progetti stratosferici, ma noi stiamo zitti. Siamo zitti e quindi ci rilassiamo, ci godiamo la nostra storia d'amore che mi ha permesso di rinascere, perché ho passato un periodo veramente buio, come tutti sapete. Ma io voglio permettermi di dirti questa cosa, hai detto passato, è passato, ma che ce frega, pensiamo al futuro. E chi si ricorda più? Invece parliamo del futuro, hai tantissimi progetti, il suo marito che è anche il manager Antonio Orso mi ha raccontato qualcosina, dobbiamo attendere, ma sono progetti imminenti. Come passi le tue giornate qui al Domina? So che fai delle lunghe passeggiate. Passeggiate, nuoto, poi attività fisica, quindi sport, tutti acquatici, eccetera, acquagym, queste cose qui, poi cuscino, perché comunque sono una brava donna di casa. Senti, allora, la ricetta ideale per tutti noi telespettatori che ti seguiamo da casa di Sara Tommasi, qual è il piatto preferito che ti riesce meglio? Ma io qui sto cucinando light, sto facendo delle inserate di tonno e delle inserate caprese, eccetera, però mi riesce bene la parmigiana. Oh, è il mio piatto preferito. E quindi anche il pol al curry, il riso gilaf. Senti, qual è la differenza tra il cibo di casa nostra, il cibo italiano e questo qui egiziano? Ma il cibo egiziano è una cucina molto diversa, una cucina con tanto riso, tanto branzino al sale, al forno, quindi tanti gamberi fritti, buono, tante salsine, tanto pesce, buono. Buono. Infatti andiamo spesso a mangiare egiziano, in questi ristoranti tipici fanno il pane proprio sotto il fuoco, è bellissimo che si confia con tutte le salsine di melanzane, salsine piccanti, no, si sta benissimo, venite a Charm. Dobbiamo venire a Charm? Ah, noi siamo già a Charm. Venite a Charm. Senti, Sara, ma perché hai scelto un alloggio qui al Domina e non in un'altra parte del mondo? Cos'è che ti ha colpito nel cuore? Ma mi ha colpito l'italianità del posto, perché comunque il Domina è un villaggio molto italiano e quindi ci si respira tanto il clima italiano, si mangia italiano, è pieno di italiani e quindi mi sento un italiano all'estero, però mi sento comunque italiana all'interno. E molto a casa. E molto a casa. E ancora di più perché sei anche titolare di un alloggio. Eh sì. Allora Sara, noi ti lasciamo al tuo sole, alla tua piscina, al tuo benessere, grazie per averci raccontato qualche news, complimenti, una bronzatura stupenda. Ma sì, vado, si sa mai, un ottimo olio abbronzante, direttamente dall'Elisir Spa, che chieder di meglio? Giornata top, luogo top, una star top. Tutto questo per voi di Truman TV. Grazie Sara. Amici e amiche, siamo stati qui all'Elisir Spa, vi abbiamo fatto conoscere le grandi novità di questa struttura magnifica che non ha concorrenza nel mondo perché è veramente la numero uno. la cara signora Olga ci ha raccontato di tutto quello che sono le iniziative direttamente dal paradiso del Domina Coral Bay. A tutti voi un abbraccio. Alla prossima! 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 A tutti voi un abbraccio. Alla prossima!